Per quanto siano importanti i social, per quanto siano importanti le app, a mio modo di vedere rimane sempre più importante quella comunicazione che, come dire, si possono dare, continuate così perché siamo in orgoglio della città. Un'assistente alle fermate grazie al vostro aiuto e grazie al vostro supporto perché il vostro ruolo è stato veramente decisivo e importantissimo. Questo dono, no? Un'unità che sta partecipando. Grazie a tutti. Grazie.